Super Mario Maker Super Mario Maker Halo i boss e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qua su Mario Maker Come ogni lunedì alle... Uuuuutici Yes allora cosa voglio fare oggi praticamente avevamo fatto nello scorso episodio abbiamo finito la modalità difficile facile e normale sulla sfida dei 100 maio ora vi spiego intanto cosa è successo perché lasciamo stare praticamente dopo aver concluso il video mi ha sbloccato immediatamente una cosa ossia la modalità difficile che appunto sono 16 livelli come quella normale ma ovviamente livelli veramente difficili come non mai e ho provato a farlo almeno il primo livello l'ho provato a fare infatti ho fatto un video ragazzi però non ho dovuto cancellarli perché non sono riuscita a fare neanche un video un livello scusate neanche il primo livello sono riuscita a fare e l'ho detto lasciamo stare non facciamola questa ma allora ragazzi proviamo a fare i livelli quindi dal mondo vediamo magari questo qua wave runner 2 perciò tolle vittorie 26,78% 56 tentativi e 15 riusciti di questo daddy proviamolo a fare io vedo già qualcosa di veramente difficile oh ok quindi dopo un po' mi devo fermare basta che vado così ok non devo fare niente io a quanto pare continuiamo così mi sposto un attimo perché sono sempre meno centrata ok ora così credo che fate bene ma non capisco dove dobbiamo arrivare cioè c'è una fine spero di sì wow sì ehm ragazzi ok no pensavo mi sono messo un attimo paura ok beh a parte la trollata alla fine ci stava parecchio era bellissimo sì la trollata poi è epica cioè è fantastica ok ok a questo daddy wave runner 2 vi metto la stella perché è stato molto molto simpatico nel senso tu la persona proprio non se l'aspetta bravo daddy ok esatto proviamo a fare invece il 2 necessari helmet ok ok quindi a quanto pare serve il metto 10% e 10% 32% di possibilità 562 tentativi e solo 58 vittorie questo mi fa dire che sarà molto impegnativo come cosa anche se il record è di 10 secondi bene andiamo a provarlo allora ok awesome pixel art bene bene niente no però ecco appunto butta sta roba oh mamma mia non lo butta la ragazza e quindi oh merda ok ragazzi ci ho provato infinite volte no non ce l'ho fatta apriamo questo guarda ragazzi guardate già l'anteprima ok percentuale vittoria 7,69% due vittorie su 26 provate no 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 non lo voglio fare non lo voglio fare anche qui ragazzi perché io sono abbastanza scarsa quindi non sarebbe il caso andiamo magari a novità e vediamo un pochino non voglio colore troll level no no vediamo la classifica stella invece mission impossible 22,69% di vittoria e un sacco di robe che va bene allora proviamola anche noi ok spero sia tranquillo facile senza problemi insomma tranquillo cosa ragazzi no ragazzi che carino mission impossible siamo un po' diversi dagli altri club vabbè vabbè poi non ci avrà visto nessuno ah ecco merda ce l'ho fatto io ora cado no raga cosa ho fatto perché perché il gatto che c'entra ora il gatto comunque prima non so salvata come ok ora sono mario perché perché tutto so ah ecco yes merda vabbè ecco se l'avevi immaginato no vabbè no non ho preso il potenziamento 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 5 6 6 2 3 3 3 5 6 7 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 8 9 9 11 12 12 13 12 13 14 14 15 15 16 15 Ok, 15,37% di vittoria, 1346 tentativi e 207 riusciti Ok, allora, 39 secondi Noi chissà quanto tempo faremo Vabbè, proviamolo Ok Ok, quello ci dà un indizio Eh, ma non è possibile Allora, aspetta Cavolo, è complicato No, raga, no, 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 no È impossibile Cosa? Come fa la gente? Niente, ragazzi, con questa schermata Comunque Io mi sto facendo male la testa, ragazzi Devo morire Io direi che possiamo Fermoci con questo episodio Lasciate un mi piace Commentate E iscrivetevi al canale Se è ancora un onore di fatto Ciao a tutti E iscriviti al canale